Ecco, questo è il classico esempio della partita che la Roma non deve mai giocare Perché bastava una squadra un tantino più organizzata Non dico il Barcellona di Guardiola Bastava una squadra un po' più organizzata e la frittata era fatta Oggi abbiamo giocato veramente male E se non fosse per il paro di Kolarov dopo 40 secondi E per il bellissimo gol di Klaivert Non tanto bello il gol quanto la scena di Mkhitaryan Non salvo niente, non salverei niente se non fosse per queste due cose Abbiamo giocato veramente, veramente male E quello che mi sorprende è la clamorosa discontinuità della Roma di Fonseca Perché domenica abbiamo giocato un'ottima gara contro il Lecce Ovvio l'avversario non era un Barcellona neanche in questo caso Però comunque è una buona, una ottima prestazione abbiamo fatto Oggi invece abbiamo giocato veramente male Mancini si sarà sbagliato di qualche mese In villeggiatura in Belgio di solito ci si va verso giugno, luglio, agosto Lui c'è andato a febbraio, quasi a marzo Avrà sbagliato sicuramente i mesi Però a parte questo ragazzi Mancini veramente imbarazzante nel primo tempo Spinazzola l'ho sempre difeso Per me è un grande terzino Ma anche lui oggi ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare Non ha avuto un cliente facile sulla sua fascia Perché attenzione quel David l'abbiamo sottovalutato tutti Ma è un gran giocatore O almeno oggi è dimostrato di essere un gran giocatore Poi non l'ho seguito molto, sono onesto con voi Nel campionato belga quindi non ve lo so dire Però oggi ha dato veramente il filo da torcere Anche a Santon Quando poi è entrato l'ex Inter Per cercare di tappare il buco che stava lasciando incredibilmente Spinazzola Per l'istante non ha giocato per niente bene E Mkhitaryan invece da trequartista mi ha stupito parecchio Carles Perez è un po' nel baratro Un po' all'angoletto, al buio Perché non si è praticamente mai visto Mkhitaryan invece mi è piaciuto molto come trequartista Ha dettato i tempi di gioco E per me quello forse è il suo vero e proprio ruolo Però bisogna dire che Mkhitaryan è stato fuori per moltissimo tempo Per via di diversi problemi fisici, diversi infortuni Ma da quando è tornato è veramente un giocatore nuovo Un giocatore rinnovato che può dare una marcia in più alla Roma Kluivert ha fatto il gol quindi comunque va apprezzato Però non è che mi abbia convinto così tanto Ha fatto quel bel gol, ha fatto qualche altro bel movimento offensivo Però sempre un po' quella passività quando si deve difendere Kluivert comunque deve crescere molto a livello tattico Quindi per me questo è il suo punto debole per eccellenza in questo momento Però ragazzi è giovanissimo e per me Kluivert è un buon prospetto Domani a luna ci sarà un sorteggio che speriamo sia benevolo Perché ora ragazzi lo ribadisco Io voglio arrivare in fondo alla competizione Non voglio assolutamente toppare Non voglio uscire subito Voglio arrivare il più in fondo possibile Non voglio ripetere le figuracce fatte con il Lione in Francia O con lo storico di Praga nel 96 Tirando fuori un po' di cose dagli archivi storici della Roma Voglio andare in fondo Perché comunque non penso che in queste Europa League ci siano tante squadre più forti della Roma Ma anzi della Roma comunque diciamo di dicembre Perché della Roma di adesso tante squadre invece sarebbero superiori Anche che noi neanche magari molti di noi ne ignorano l'esistenza E sarebbero molto più forti della Roma di adesso ecco Io voglio arrivare in fondo perché penso che si possa vincere tranquillamente queste Europa League O quantomeno si possa arrivare in fondo con facilità se giochiamo da Roma Perché ragazzi attenzione La Roma è forte, è una buona squadra Questo è innegabile Però il problema è mentale La Roma si distrae a problemi di concentrazione Ma penso che la Roma abbia buone possibilità di arrivare in fondo all'Europa League Se gioca come deve giocare la Roma Il video finisce qui Vi ringrazio di averlo visto Vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un iscrizione al canale Ciao a tutti